Argomento del giorno Ma chi ha detto che solo le formiche fanno file di migliaia di individui che percorrono la foresta? Queste sono termiti La loro fila Prosegue, prosegue Sono anche abbastanza ordinate Avremo percorso poco più di 6 metri Non so quanti individui siano ma sono parecchi In realtà la maggior parte esce qua a questo svincolo Qua ce n'è una moltitudine E probabilmente qua hanno un altro nido Alle basi di questo albero Perché dopo la trazza si infila fra le foglie E non si riesce più a seguire L'albero è questo per intendersi Alberello Ok Grazie a tutti